giorgia meloni candidata sindaco di roma la suggestione è tornata a circolare in queste settimane a quanto pare respinta dalla diretta interessata e più per le associazioni del mondo culturale della destra è meglio di no chissà perché tutti si preoccupano del futuro di giorgia meloni scrive un pool di movimenti in una nota congiunta redatta da domenico gramazio presidente della fondazione rivolta ideale che costituisce il network delle associazioni giovanili della destra ante an ed ad alberto baldoni presidente della commissione politico-culturale del cis e una leader del centrodestra a livello nazionale per cui è doveroso che si preoccupi dell'opposizione al governo nella difficile situazione economica per roma proseguono occorre una candidato che lavori a tempo pieno per la città per superare le emergenze che sono accresciute in questi anni per questo motivo auspichiamo che il centrodestra indichi al più presto il nome dei candidati sindaci nelle città per avviare da subito la campagna elettorale per le amministrative d'autunno e una presa di posizione questa che si innesta nel complicato dibattito intorno alla designazione dei candidati del blocco moderato identitario in cui la coalizione a livello nazionale spaccata con lega e forza italia sostegno di draghi e fratelli d'italia all'opposizione sta facendo molta fatica nell'identificare le figure proprio oggi con una lettera al quotidiano libero a milano gabriele albertini ha circostanziato il suo no grazie e per quanto riguarda roma l'altro ieri guido bertolaso in un'intervista al corriere della sera aveva escluso per l'ennesima volta una sua corsa per il campidoglio